R24, informazione e musica. L'Ombelico del Mondo, con Donatella Durando. L'Ombelico del Mondo, lo sapete ogni tanto, ospita qualcuno che ve le suona. In questo caso è arrivato Andrea, che è arrivato da dove? Da Cuneo. Buonasera, benvenuto nella città del festival. Puoi chiamarmi Andy, che è il mio nome d'arte. Andy Lios. Ah, che bello. Allora, già vuol dire che ti possiamo cercare, hai dei contatti, eccetera, eccetera, giusto? E allora, Andy Lios, benvenuto a Sanremo, benvenuto a R24. Allora, la tua musica è intanto, come dire, tua, perché componi. Sì, esatto. Però ogni tanto qualcosa di qualcun altro. Sì. Assolutamente sì, a noi ci piace questa cosa. Sì, sì. Ci piace perché abbiamo sentito che hai un po' di talento, e allora abbiamo detto che questo talento non dovevamo sentirlo solo noi, ma anche i nostri ascoltatori. Senti, cominciamo, perché la chitarra è pronta, è accordata. Che cosa cantiamo per i primi secondi? Per stare allegri, Il tempo di morire, di Lucio Battisti. Un grande classico della musica italiana. Prego. Motocicletta, 10 HP, tutta cromata, e tu a sedici, sì, sì. Mi costa una vita, per niente la darei, ma ho il cuore malato, e so che guarirei. Non dire no, non dire no, non dire no, lo so che ami un altro, ma che ci posso fare? Io sono un disperato, perché ti voglio amare, perché ti voglio amare, perché ti voglio amare. Bravo, grazie. Allora, conosciamo un po' più di te. Ripetiamo il tuo nome, d'arte, ovviamente. D'arte Andy Lios, con la I. Andy con la I, Lios, così com'è. Andy Lios, quando ha cominciato a suonare la chitarra? Io ho iniziato relativamente tardi, tra virgolette. Ho iniziato intorno ai 24 anni. È stato quasi un caso, perché facevo il Politecnico in quel periodo, e non era proprio la mia strada. E poi, parlando con un mio amico, lì mi fa, no, io ho una vecchia chitarra, domani te la porto, e così è iniziato il tutto. Bella questa storia, no? È molto, molto carina. E poi da lì hai cominciato a suonare, però poi hai cominciato a comporre. Ho iniziato a comporre, sì, in realtà componevo già prima. Poi nel fatto che mi sono laureato in Scienze dell'Educazione, ho iniziato anche a lavorare, però non era proprio neanche quella la mia strada, allora sono partito, me ne sono andato in giro per l'Italia. La prima tappa è stata a Sanremo. Bravo! Stiamo ospettando, e devo dire, molto volentieri, grazie alla sua voce particolare, Andy Lios, che ci ha già suonato una canzone italiana. Tutto bene? Come ti trovi? Benissimo. Oh, e allora andiamo avanti, a oltranza. Senti, adesso questo è l'ombelico del mondo, quindi ci vuole assolutamente una canzone che arrivi da fuori dell'Italia. Che canzone ci proponi? I'm yours di Jason Bratz. I'm yours di Jason Bratz. It can my turn to win. Some more learn, some better. Boom, eh. Za te, no more. No more. It can not be. I'm yours. Open up your mind and see you like me. Open up your planes and turn your feet. Lookin' to your heart and you find low, 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 low. Listen to the music of the moment people dance and sing with just one big family. E bravo Andy Lius che anche questa sera ce le suona. Senti, abbiamo parlato di tue composizioni. Noi gli abbiamo lanciato una sfida. Ci suoni e ci canti qualcosa di tuo, Andy la raccolta e infatti adesso cosa suonerai? Adesso suono un pezzo che ha vinto il premio Giancarlo Bigazzi al premio Mia Martini 2018, un pezzettino, le faccio. E poi un altro, sempre, sì mio, e un altro pezzo mio che è estratto sempre dal mio disco Va tutto bene, che poi potete trovare contattandomi sui social. Sei qui anche per questo perché sei talmente avanti che insomma hai già un disco. E allora l'ombelico del mondo spalanca le porte a questo giovane ragazzo che si chiama Andy Lius e che ci suona? Va tutto bene, sei tu, sei lei. Se ti guardo nel silenzio io ritrovo l'amore Quell'amore che ho già perso quando inizio a parlare È difficile trovare l'equilibrio interiore Se mi sposto verso te Così torno a navigare Dentro al blu del mio cuore È difficile spiegare Preferisco tacere Il pericolo dov'è? Quando suono e canto va tutto bene Quando sto in silenzio va tutto bene Finché mi nascondo va tutto bene Finché non mi espongo va tutto bene Tu sai Essere speciale Tu sei Lei sei l'essenziale Tu sei Vera sei l'amore Tu sei Musica e passione Grazie, grazie, grazie. Parliamo un pochino velocemente del tuo disco. Quanti pezzi contiene? Contiene sei pezzi. È un LP. È il mio primo disco. È stato realizzato grazie a una campagna di crowdfunding partita l'anno scorso. Avevo fatto le audizioni in premio Mia Martini. Poi ho detto vabbè già che ci siamo per realizzare un inedito realizzo tutto l'album. E quindi questi sono i miei primi brani, il mio primo biglietto da visita ecco. Sono tutti in italiano i brani? Sono tutti in italiano. Sono arrangiati dal maestro Massimo Celsi all'interno della mia scuola che è la Voice Art Academy di Cuneo che si appoggia alla scuola di Danila Satragno che è la vocal coach numero uno in Italia. Stiamo piacevolmente parlando anche fuori onda con Andy Lios. Lo stiamo conoscendo anche un po' più come persona, non solo come autore. Insomma abbiamo scoperto che è un ragazzo che ha anche studiato. Attenzione perché tra le cose che vi ho descritto di lui c'è anche quella che è titolato. Quindi può stare qua dentro. Ma a parte tutto abbiamo scoperto che compone delle canzoni. Ci salutiamo caro Andy con la sua composizione che si intitola? Siamo Eternità. Allora facciamo questa promessa. La prossima volta che capiti nella nostra città vienici a trovare ma nel frattempo visto che hai parlato di disco dai i tuoi contatti, pagina Facebook, Instagram e numero di scarpe. Non dimenticare, vai! Porto un 45, poi mi potete trovare sia su Instagram, su Facebook e su YouTube scrivendo Andy con la I, Lios, L-I-O-S. Oltre il tempo, oltre tutto, oltre modo, oltre gli astri, oltre il mondo, siamo Eternità. Così quello che sento non è amore, è un canto, è l'eterno silenzio in cui viviamo noi. E' la pace che mi dà il tocco tuo, è la prova che mi ha dato Dio. Io so che mai ti finirai, anche se tu te ne andrai, restiamo noi per tutta l'eternità. Poi mentre dormi, lentamente mi avvolgi, mi accarezzi, mi stringi, questo è quello che sei. Perché anche se dormi, la tua anima è sempre lì, tu mi ami, lo vedo sì, spero ricorderai. Quella pace che sento adesso io, la certezza che sono sempre il tuo. No, 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 no. Io so che mai tu finirai, che anche se tu te ne andrai, restiamo noi per tutta l'eternità. L'ombelico del mondo con Donatella Durando R24 informazione e musica